Buongiorno amici e bentornati alle stelle come polvere ASNF Siccome ultimamente vi ho addormentato un sacco, piaccherando tantissimo e prodigandomi con la mia noiosa faccia, questo video cercherà di essere più esente da tutto ciò E sarà un semplice video unboxing, i rumori vari naturalmente Dear friends, this will be a simple unboxing video, with lots of triggers and different noises, I hope, and strange ears This video will deal with something connected with ASMR and recording, I could say, not only ASMR, but recording in general So, a video, you will find it interesting And a nice view E la cosa strana cari amici E che questo video riguarderà l'unboxing E qualcosa legato all'smr più che altro al registrare e filmare E' qualcosa di utile Che mi serviva da un pezzo E approfittando di recenti enormi sconti Mi sono lanciato in questo acquisto E spero di utilizzarlo Dovrebbe servirmi Sono corioso di poterlo utilizzare Oltre che per l'smr mi servirà probabilmente anche per registrare altro E anche in altri ambiti, diciamo, una cosa che può tornare utile Vediamo di cosa si tratta E' un po' pesante E' un po' pesante Purtroppo, i miei amici E' un po' pesante Perroppo, i rumori E' un po' pesante Si tratta per gli amici E' un po' pesante Scusami, ho controllato la messa a fuoco Ok, take this one eur 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 si trappano le luci dei soft spot eur 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 and then you'll start yourselves so let's go now and see what is inside and then you'll start with the package Sì 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 Chissà come verrebbe se provassi a parlare un po' così, in soft spoke. Sì 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 Sì, non saranno campagne tivetane, ma sono campagne. Ok, vado a casa. Let's see what is inside, here. Many cardboard packages. Here we go. Can you see? Un sacco di pacchetti di cartone. Facciamo un bel po' di tapping, allora, sul cartone che ci piace così tanto. Let's do some cardboard tapping that we like so much. So, let's do some cardboard. So, let's do some cardboard. And we're going to push it slowly now. Ok, there are white packages, these ones are the white ones, and you can also see there are yellow packages, these ones. Let's start opening the white ones and watching what is inside. I think, these are the ones. Let's start here. You can hear the color. Glass and plastic. You can hear some metal, plastic and glass. Glass and plastic. Oh Ok, let's go ahead Ah, so I think this will be lamp number 2 Let's just cover it Open this without anything Ok Tapping this to it The battery with my camera is just leaving now I hope it won't die so soon Ok I hope it won't die I hope it won't die I hope it won't die Ok, and this is And number 2 Same sounds as before And you have again I've changed to the battery so I have another half of an hour Let's explore these sounds This is This one It's also in the end of the day It's also in the end of the day It's a soft spot Ok Let's put away Let's continue with the white ones This is nice Let's Talking it around If you can hear It doesn't matter to see it's from here And It's 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 scotch tape sounds this is just one of the little pages of the stencil I'm going to be telescopic Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 and this is too let's do some yellow topping you know I also like the cicadas singing because there are many cicadas this year here here ok ok and a third of this, but I didn't need a third of this, so I think the package is just one I need a second standard, not a third of this but this one is close and now, these longer things I'm hoping that inside one of these, there's the second standard, but I'm not too sure it is possible and instead, it is possible I have here an entire stand I think one standard is higher than the other is it normal? one of these lights should be smaller than the other maybe Google and maybe it's just a glass of this package and I see that it came very 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 late I had to wait a lot of time behind the other so maybe I could into the package something more let's see let's see but without never forgetting this is one of our beautiful signs the screens are the best right here oh ok, this is one entire stand so in the second similar package let's see I should need recycling let's see in that stand let's see I 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 chissà che luce faranno questi ombrellini che luce rifletteranno o meglio ancora diffonderanno per essere precisi ok questo video giunge finalmente al termine so really hope you liked this video dear friends please remember to subscribe to tell me something to leave a like and so on thank you so much and very nice we are now more than 500 on this channel so it will be soon something like a celebration video for you I don't know maybe I will play the piano who could say bene cari amici vi saluto tutti spero vi sia piaciuto questo video iscrivetevi lasciatemi un like e vi annuncio che siamo in più di 500 ora su questo canale e quindi presto farò un video così celebrativo forse suonerò un po' o mi inventerò qualcos'altro ma ora vi saluto cari amici dal mio ombrellino ciao 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 goodbye goodbye dear friends see you next time bye 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 are you still there but I said goodbye goodbye Grazie a tutti.